Pre Sanremo ci siamo detti delle cose, post Sanremo, vai, commento a caldo, come ti senti adesso? Poi ho dei giochetti per te, ma ci arriveremo. Allora, come mi sento? Mi sento bene, meglio di prima sicuramente, da che comunque facevo musica un po' più per le nicchie, diciamo che sono contento anche che il pubblico un po' più mainstream, anche quello più adulto abbia scoperto in me un messaggio, comunque un artista che piace, la canzone sta andando bene, quindi io non mi aspettavo assolutamente tutta sta roba e sono contentissimo. Avevi sottovalutato la potenza del pezzo oppure il pubblico magari? Entrambe le cose, il pezzo pensavo che fosse forte, ma non pensavo che piacesse così tanto, poi non pensavo che il pubblico la recepisse in una maniera così diretta, già dalla prima sera c'è stato tutto questo amore nei miei confronti, mi hanno preso a cuore comunque, polemiche a parte, io ho avuto veramente solo amore. Infatti mi hai un po' anticipato quello che ti volevo chiedere, quando è che hai realizzato che il punto che avevi in testa era già stato proprio super oltrepassato, no? Perché visto che non te l'aspettavi, quindi penso che c'è avuto pure un impatto che si sarà trasformato in una super carica che infatti si è vista. Beh, direi, allora, ancora prima di esibirmi, cioè tipo già da quando hanno parlato di me in Parlamento ho detto ok, già superato, superato tutto. Poi tutte le persone che mi hanno difeso, perché io ho ricevuto pochissimi attacchi da quella roba, anzi fondamentalmente solo lei. Il bumerate. Sì, cioè. Noi ti abbiamo difeso, stiamo tranquilli. Eh, ma no, ma è stato bellissimo. Vabbè, ci hai pagato bene comunque. E non è che bisogna dire... No, vabbè, però per traspare... Vediamo le cifre, ho capito. Quando è a nero non si può dimostrare. Eh, infatti, quindi di pure quello che vuoi, tanto per avvocati... Il nero rimane sempre invisibile comunque, non è tracciabile. Sì, sì, paradossalmente sì. Sì. Comunque, tolto appunto questo discorso di polemica, era già superato. Dalla prima sera, in realtà, la sera prima ho avuto un mega crawl emotivo. Mega. Mega, tipo non ho dormito per due giorni prima. Terzo giorno... Gocce. Io ho avuto mega crawl, pensavo di non farcela, pensavo di non essere abbastanza per... per una cosa che comunque spaventa. Cioè, quel palco non è un palco normale. Cioè, eri stato da ospite, però, mi ricordo. Sì, ma è un altro... Nella serata da duetto. Un altro pianeta. Beh, è il palco scenico più potente che c'è qua in Italia. Sì, ma... A livello... Beh, sì. Cioè, non è un... È un'altra cosa ancora, ti giuro. Io ho fatto lo stadio con la Nannini. Ho fatto Love Me a Milano, 30.000 persone in una piazza. Ma niente a che vedere, nulla. Nel altro perché... Cioè, qualcuno dice... Eh, beh, qualcuno dice che... Vedi, abbiamo pensato la stessa cosa. Che ai giovani non gliene fregava un cazzo di Sanremo. In realtà, non... Invece... No, no. Io ho fatto una preparazione di due mesi. Psicologo, canto. Mentale. Poi, comunque, io per due mesi non ho pensato ad altro. Ero super preparato per l'esibizione. Che non mi aspettavo andasse così bene. Poi, a livello canoro, chiaro. Io non sono... Emma, non sono Mengoni. Quindi il mio obiettivo non era andare a cantare come un professionista di quel calibro. Però era andare a fare una bella figura. Perché tanta gente si aspettava che io non sapessi proprio fare niente. Diciamo che il palco è tenuto bene, però. Cioè, l'altro ho visto bello solido. Sono soddisfatto di come è andata. E dalla prima sera in poi, devo dire che è tutto in discesa. Nel senso che... In discesa, sì. No, in discesa, in discesa. La salita è fatta. E' infatti. È tutto in discesa perché poi io la prima sera, quindi ansia, sul palco, trasformata poi in adrenalina. E dalla seconda in poi, zero ansia, solo cazzo duro per spaccare. Basta. Ho visto anche gli altri artisti, eh. Ma no, ma devo dire... Molto carini, i loro frutti, almeno apparentemente, però... Un Sanremo figo, secondo me. Tolto che comunque ne ho fatto parte, ma... Cioè, fighi gli ospiti, fighe le canzoni, fighe... figo tutto. Ma infatti quello che stavo a pensare io, che l'abbiamo detto pure in live l'altra volta, è il fatto che il processo di svecchiamento è riuscito meglio del solito. E questa cosa poi si è vista perché, di conseguenza, poi va pure su TikTok, eccetera, se ne parla. A prescindere dalle polemiche sterili, quasi complottistiche, no? Che poi penso che ci attiveremo dopo nel parlarne. È stata una cassa di risonanza che ha suonato meglio, appunto, sia per la scelta dei talent, sia per l'approccio che si è scelto di avere. Assolutamente. E poi da conseguenza pure sui social. Guarda, per dire, Amadeus ha aperto il profilo Instagram sul palco. Cioè, in due giorni, un milione di folk... Cioè, capito? Ma la presenza stessa di Chiara Ferragni... È stato un festival molto social. Esatto. È stata una cosa intelligente. È stata una mossa... Esatto. Intelligente. Molto intelligente. Poi, posso dire la verità, Amadeus Raga è una persona veramente potente, ma figa. Cioè, il tipo sta sul pezzo, non ce n'è. C'ha tipo un'aura potentissima. Ce l'ha e poi è una... Cioè, non è facile comunque avere una certa età e avere una mentalità così aperta. Basti guardare gli italiani come rispondono a certe cose. Tipo, invece, super mentalità aperta, difeso a spada tratta un sacco di argomenti, comunque che, oh, cioè, non tutti avrebbero preso determinate parti. No, per dire, anche solo la mia posizione, un'accusa in Parlamento, il tipo fa, ma... Sì, sì, ha parlato. Che problemi hai? Cioè, la balla anche tua figlia. Cioè, capisci? Non lo so, a me mi ha toccato direttamente, è stato figo. Hai anche stimolato delle discussioni interessanti, come Amadeus ha parlato appunto dell'amore omosessuale, mi pare, ha fatto un discorso partendo dal tuo bacio, no? Certo, che poi non era l'obiettivo, però è comunque bene parlarne, quindi... Quello che ha suscitato poi indipendentemente dall'obiettivo. Cioè, è stato il dibattito, sì. Era il mio obiettivo, sì, quello era parlarne. Abbiamo un po' analizzato anche il percorso di Amadeus e devo dire che in questi ultimi anni ha lavorato bene, sì, sì, e soprattutto sicuro delle sue scelte. Cioè, ha sempre difeso le sue scelte, anche con Madame, per esempio, no? C'era stata tutta la polemica in relazione ai vaccini, queste cose qui, Green Pass, eccetera. E lui si è fatto carico, rispondeva ai giornalisti pure, insomma, muso duro, poi certo con i risultati alla mano. E non è facile però, eh. No, la voglia. Cioè, prendere una posizione del genere, ti mette anche di fronte a dei riflettori che non sono quelli dell'intervista e basta. Cioè, certe parole possono metterti in una posizione veramente scomoda. E secondo me non ho avuto peli sulla lingua e soprattutto da quello che mi è parso di vedere, non è costruito. Cioè, non è costruita la cosa per essere il presentatore buono, fammi dire, no? Ma questo non lo so. A me... Penso sia una cosa sua di poter prendersi la responsabilità un po'. A me è sembrato veramente... ...de persone che chiamano. ...con le palle. Schierarsi così è comunque sintomo di... ...di essere avanti, non lo so. Sì, da come stai a dire, mi arriva come una persona che ti mette proprio tranquillità, no? Che sta là, che sa tutto come deve andare, che giostra, che... Con Amadeus, per quanto mi riguarda, il detto mio padre è letterale perché mi ricorda tantissimo il carattere di mio padre. Quindi pure a me mi sembra genuino comunque. Esistono le persone così.